Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi, oltre al piacere di ritrovare dopo tanti anni un caro amico, presentiamo il suo ultimo lavoro che è interessantissimo. Il titolo è Il libro delle gesta di Jean Lemengre, detto Bucicot, biografia coeva dell'ultimo grande cavaliere medievale. Un testo che potrete trovare su Amazon e l'autore che è con noi è Giovanni Amatuccio, al quale, come mi abitudine, io lascio subito la parola per non rubargli altro tempo. Ciao Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti quelli che ci seguiranno. Niente, ecco, dico che subito questo libro del quale vogliamo parlare oggi, eccolo qua, si vede in video, è un libro di 300 pagine che ho pubblicato con Amazon. E dico subito che questo libro fa parte di un progetto un po' più ampio che io ho chiamato Trilogia della Cavalleria. Quindi questo sarebbe il terzo volume di questa trilogia. Il primo era questo qua, il libro della Cavalleria di Geoffroy de Charny, sottitolato L'etica del perfetto cavaliere. Geoffroy de Charny è stato uno dei più grandi e famosi cavalieri, protagonista della guerra dei cent'anni, noto per, tra l'altro, per essere stato uno dei, forse il primo possessore della Sacra Sindone, morto nella battaglia di Poitiers, mentre stringeva la lorifiamma, lo standardo dei re di Francia, quindi una vita avventurosa. In questo libro lui costruisce un manuale, ho detto io, del perfetto cavaliere, ma non un manuale tecnico, chiaramente un manuale di tecniche militari, ma un manuale di etica cavalleresca. E quindi in questo testo si trovano condensati tutti quelli che sono i principi della cavalleria medievale. Il secondo volume di questa trilogia è o intitolato Antologia della Cavalleria, insieme di una raccolta di testi da me tradotti, così come ho tradotto il libro di Charny dal francese antico. In questo caso si tratta di una serie di testi tradotti dal latino, sempre dal francese, attraverso i quali io cerco di rendere, di restituire quello del cosiddetto codice della cavalleria, codice che chiaramente non è mai esistito in una forma scritta, in una forma codificata veramente, ma che attraverso questi testi di vari autori medievali viene restituito e quindi si ottiene un quadro di quello che può essere considerato questo codice al quale per secoli i cavalieri, la nobiltà dell'Occidente medievale si è adeguata e nei cui valori si è riconosciuta. Ho detto questo, quindi poi il terzo volume, questo qua di cui parleremo in maniera più approfondita, dicevo questo progetto della trilogia della cavalleria a sua volta per me fa parte di un programma di traduzione delle fonti, che ritengo un'opera essenziale per il panorama della medievistica italiana in questo momento, perché al contrario di quando accade per esempio nel mondo anglosassone dove è molto fiorente la produzione di traduzioni delle fonti originali, quindi in lingua inglese traducono le fonti medievali latine, i francesi, in Italia tutto ciò è poco praticato perché in Italia la pubblicistica medievale si divide in due grandi filoni, cioè quella accademico-scientifica riservata ai pochi specialisti della materia e quella più vasta della divulgazione storica. Io cerco di inserirmi tra questi due filoni con un carattere di novità che è quella di proporre le fonti nella loro interezza e nella loro integrità, quindi traducendoli dal latino, dal francese antico, da altre lingue e rendendole fruibili al grande pubblico, insomma il quale potrà in questo modo attingere a queste fonti in maniera diretta senza la mediazione del saggio critico pur necessario, chiaramente pur che rimane fondamentale nella storiografia attuale. Però dare quest'ulteriore possibilità al grande pubblico che sempre più si avvicina allo studio del Medioevo, il quale non essendo in grado di poter leggere in maniera compiuta un testo latino, un testo in francese antico, in questo modo potrà usufruire di queste nuove possibilità. Diciamo quindi questo è il progetto che sto seguendo e al quale è ispirato pure questo nuovo libro che tu hai introdotto. Diciamo quindi questo libro fu scritto, questo personaggio dunque innanzitutto chiesciano le maigre detto busico. Fu un personaggio che visse a cavallo tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo, quindi in quello che Huizinga ha definito l'autunno del Medioevo, cioè siamo alla fine di quei valori di cui parlavamo, della cavalleria medievale, che sono al suo declino, ma al tempo stesso nel momento in cui arriva il declino troviamo anche una maturità di questo declino e quindi in esso, in questo periodo, negli scritti che riguardano questi argomenti troviamo a giungere a compimento di questo fenomeno della cavalleria con tutto quello che era significato nei secoli precedenti. Dunque, Jean Le Maigre detto busico, busico era un soprannome che gli fu affibbiato, era stato affibbiato già al padre e quindi lui lo eredita, busico significava, insomma è un po' incerto l'etimologia del termine, che forse deriva dal termine francese, boss, che sarebbe la nostra nassa, quella per pescare i pesci, questa specie di cesso che si mette in mare, oppure secondo altri derivava dal latino boss cautus, cioè un bue prudente, quindi dava il senso sia della forza, il bue appunto, ma un bue forte ma cauto, attento, prudente. Fu allevato da fanciullo assieme al delfino di Francia, il futuro re Carlo VI e già da giovinetto all'età di manifestava questo particolare interesse per l'esercizio delle armi della cavalleria e quindi da giovane si impegnava già ad esercitarsi nell'uso delle armi e quindi ha questa biografia coeva, cioè coeva perché fu scritta da un suo contemporaneo, probabilmente da un suo collaboratore, da un suo, anche se non si sa di preciso chi fu l'autore, che quindi resta anonimo, ma sicuramente fu uno dei, uno della sua cerchia politico-militare e quindi lui racconta questo anonimo autore, racconta i suoi primi passi da giovane finché poi fu all'età di 16 anni fu già investito cavaliere e lui smaniava per poter partecipare alle imprese d'armi che gli furono affidate sin dalla giovane età dal re di Francia. A 16 anni fu cavaliere, nel 1384, dopo qualche anno già approfittando della tregua nella guerra dei Centanni, perché appunto l'ambiente nel quale si svolge all'inizio la sua vita è quello della guerra dei Centanni, una guerra interpinabile, imprese d'armi che si susseguivano in continuo sul territorio francese, ma egli oltre a queste attività belliche contro gli inglesi partecipò anche ad altri importanti avvenimenti quali le cosiddette Raizen, cioè le cavalcate che venivano indette dall'ordine teutonico in Prussia e venivano portate queste cavalcate che erano delle vere e proprie razzie di conquista verso i paesi dell'est ancora considerati pagani, la Lituania, la Lettonia e l'ordine teutonico indiceva queste Raizen, queste cavalcate, cercando in particolare di attrarre i cavalieri occidentali dell'Europa francese, inglese, i quali ritenevano un onore poter partecipare a queste cavalcate, a queste razzie e Boussicou vi partecipò appunto già in giovane età a partire dal 1384, dopodiché fu impegnato in altri avventurosi itinerari militari nei Balcani, nel Vicino Oriente, in giostre famose a quei tempi, una delle quali la più famosa si fosse il 1390, a Saint-en-Glevers, il cosiddetto Padarm, cioè dove i cavalieri lanciavano una sfida che durava un certo periodo di tempo durante la quale essi restavano a disposizione su quel posto, attendendo l'arrivo poi degli sfidanti. Nel 1396 fu protagonista di un'altra grande e importante impresa, purtroppo finita male per lui e per tutta la cristianità occidentale, c'è una spedizione franco-uncarica contro i turchi ottomani che dilagavano nei Balcani e stavano minacciando la stessa Ungheria, quindi si creò questa crociata franco-ungherese che andò ad affrontare i turchi nella famosa battaglia di Nicopoli, dove per la prima volta le armate occidentali, la cavalleria occidentale, si trovò di fronte a questo nuovo potente nemico, cioè gli ottomani, e si trovò di fronte a queste nuove tecniche belliche alle quali l'orgogliosa cavalleria feudale francese non era preparata e quindi in questa battaglia di Nicopoli dove la cavalleria francese andò alla carica contro i turchi si trovò uno sbarramento di pali accuminati e di arcieri turchi che fece strage di questa cavalleria e tra i prigionieri, tra i catturati, vi fu anche Boussicot che ebbe la fortuna, grazie alle sue amicizie con la Casa Reale di Francia, di non essere passato per le armi come accadde a moltissimi cavalieri francesi quel giorno, ma riuscì poi, fatto prigionire, dopo un po' di tempo riuscì ad essere riscattato, dopo, previo a un lauto compenso raccolto dalla nobiltà francese e pagato al sultano ottomano. Dopo la sua liberazione partecipò a un'altra grande spedizione di volta a soccorrere l'imperatore Bizantino Manuele II, siamo nel 1399, tornò in Francia e in Francia fu protagonista di altri due episodi singolari che rendono l'idea del personaggio di fronte al quale ci troviamo, cioè la creazione e la partecipazione a una cosiddetta cura amurese, una corte d'amore che fu organizzata da alcuni grandi baroni francesi e che aveva questo scopo letterario, amoroso, e Busicori vi fece parte. Così come fece parte, anzi fu l'organizzatore di un altro evento singolare, cioè la creazione di un ordine cavallerisco chiamato ordine della dama bianca dallo scudo verde, cosiddetta appunto perché il simbolo era questa dama bianca rappresentata su uno scudo verde che si proponeva di assistere, di difendere le donne vedove, fanciulle o ammogliatele, vittime di soprusi da parte di altri nobili, di altri cavalieri che cercavano di approfittare della, se mai di situazioni di difficoltà di queste donne, in particolare le vedove che venivano a trovarsi e c'erano personaggi che cercavano di approfittarsi del loro onore e dei loro beni. Allora Busicò fondò quest'ordine assieme ad altri dodici cavalieri con una serie di regole insomma al quale ordine potevano appellarsi tutte le donne che si ritenevano vittime di inciustizie, di soprusi e quindi uno o più di questi dodici cavalieri poi sarebbe sceso in campo per difendere l'onore della donna contro l'usurpatore. E appunto dicevo appunto questo rende l'idea dell'adesione di Busicò a questo spirito della cavalleria intesa come, non solo come fatto, come organizzazione militare ma come organizzazione di difesa dei diritti, sappiamo appunto come recitano le varie fonti del tempo, delle vedove, dei fanciulli, dei poveri e degli indifesi. Ecco, è esaurita però questo periodo avventuroso della sua giovinezza nel 1300, alla fine del 300, Busicò si trova a dover affrontare incarichi più prestigiosi, incarichi di carattere non solo militare ma anche politico-amministrativo. Fu nominato infatti governatore di Genova, la quale Genova si era in quel periodo messa sotto la protezione del re di Francia e quindi il re di Francia lo invia dopo averlo nominato, ecco, maresciallo di Francia, quindi alla più alta carica politico-militare della Francia di quel tempo, lo invia a Genova come governatore. Durante questo suo incarico lui entra in conflitto con i veneziani, nemici giurati di Genova e quindi si trova a combattere con loro una sede di scontri navali nelle acque del Medio Oriente e inoltre a questo conflitto con i veneziani lui si trova invischiato anche poi nelle vicende delle repubbliche e delle signorie italiane del tempo con Firenze, Pisa, nel libro l'autore, l'anonimo autore da questo quadro un po' sconcertante che descrive Boussicot alle prese con questi italiani rissosi che continuano a essere divisi tra Guelfi e Ghibellini in ogni città, in ogni borgo e lui si trova coinvolto in queste beghe italiane e cerca di porvi rimedio, le quali beghe poi tra l'altro si intrecciano con quell'altro grande capitolo del grande scisma della Chiesa di quel periodo all'interno del quale Boussicot cerca di giocare un suo ruolo parteggiando per il Papa di Avignone e quindi cercando di convincere anche le città italiane, Firenze, Pisa, alla causa del Papa avignonese. diciamo quindi questa sua biografia consiste di quattro parti, le prime tre raccontano tutte queste sue vicende, le sue battaglie, le sue avventure di cui abbiamo appena parlato, la quarta infine descrive il carattere, il modo di vivere in maniera abbastanza chiaramente ageografica ed encomiastica delle sue virtù cavalleresche eccetera. Però questa biografia poi si conclude bruscamente nel 1409 praticamente quando finisce il suo mandato di governatore a Genova però poi noi sappiamo da altre fonti che la sua carriera si conclude tragicamente su un altro grande campo di battaglia, quello di Asencourt nel 1415 contro gli inglesi dove lui partecipava come appunto uno dei capi dello schieramento francese e stranamente questa battaglia di Asencourt in un certo modo assomiglia a quella di Nicopoli che abbiamo citato prima anche se si svolge a molto tempo di distanza e con protagonisti diversi ma diciamo che anche in quel caso ad Asencourt la cavalleria feudale francese subisce uno smacco clamoroso ad opera soprattutto degli arcieri inglesi i quali ad operano quasi la stessa tecnica che fu usata dai turchi a Nicopoli c'è lo sbarramento di con questi pali accuminati contro i quali vanno a schiantarsi i cavalieri francesi armati alla pesante che poi vengono sommersi da questa grandine di frecce degli arcieri inglesi come era accaduto con quelli turchi anni prima. Diciamo anche questa volta riesce a salvare la pelle ad Asencourt però questa volta non gli riesce la scappatoia del riscatto in quanto gli inglesi se lo portano in Inghilterra lo tengono prigioniero e non lo mollano dietro alcuna promessa di riscatto perché lo ritengono un pericolo grosso per la continuazione della guerra contro i francesi e quindi il 25 giugno del 1424 egli muore prigioniero in Francia poi solo dopo la sua morte la sua salma farà rientro in patria. Che dire diciamo la valutazione che la storiografia ha dato di quest'opera è stata abbastanza controversa cioè a partire dallo stesso Izinga che abbiamo citato prima che poi la sua interpretazione ha fatto scuola anche nei commentatori successivi. L'hanno vista come appunto un'opera a quanto encomiastica cioè l'ho attesa principalmente a difendere l'operato del suo protagonista soprattutto di fronte agli scacchi subiti sia in campo militare sia in campo diplomatico allora ecco che l'interpretazione di Izinga prima di altri commentatori dopo sostanzialmente è stata quella dice sì vabbè questa è un'opera encomiastica dove si cerca di rappresentare la gloria di questo personaggio e le sue virtù cavallerische in un'epoca dove ormai la realtà era ben diversa la realtà militare della della cavalleria era ben diversa tuttavia diciamo più di recente altri commentatori altri critici hanno hanno messo in evidenza di come sì certamente ci troviamo di di fronte a un'opera possiamo dire a geografica però in questa opera anche tenendo presente questo dato noi possiamo apprezzare quelli appunto che erano stati i cavolo i valori della cavalleria nei secoli del medioevo e apprezzarli proprio al tramonto al suo tramonto e verificare che questa questi valori erano ancora pre ben presenti nella e lo saranno ancora per per molto questi valori della lealtà dell'amicizia del rispetto dei deboli del della difesa del disprezzo per esempio per 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 il danaro per per l'acquisizione di dei titoli e delle e degli onori ecco invece loro valorizzavano diciamo l'onore contro gli onori l'onore con la o maiuscola indese come come ultimo grande valore al quale il cavaliere dedicava la la propria vita insomma ha detto questo penso di aver dato un quadro abbastanza esaustivo del lavoro se hai qualche domanda da pur mi veniva da pensare che potrebbe essere un film si si è del resto ho visto questo è praticamente siamo nello stesso periodo nel quale è ambientato quest'ultimo film non so se che hai visto il last duel di sul quale ci sono state varie critiche ma io credo sia fatto abbastanza bene e diciamo questo è proprio quello il periodo nel quale ci troviamo questo periodo scusa ti ho interrotto stavi dicendo no no appunto il tramonto del medioevo dal suo punto di vista ma il sopravvivere di questi ideali cavallereschi che si formano a partire dal dodicesimo secolo poi no perché la galleria in questo senso nasce proprio tra il 1100 e 1200 e che ovviamente come sempre no poi i principi sono una cosa la realtà spesso e volentieri un'altra questo vale ancora oggi no però un personaggio così intrigante e così poliedrico e così vagabondo perché è proprio il cavaliere errante tra genova e i balcani ce n'è per c'è veramente la lituania la promessa c'è materia per un gran film e uno dovrebbe cominciare leggendo il libro quindi a questo punto secondo me la cosa importante da fare è ricordare il titolo che il libro delle gesta di jean lemengre detto bursicò biografia coeva dell'ultimo grande cavaliere medievale di giovanni amatuccio 301 pagine lo trovate su amazon quindi acquistatelo perché è veramente interessante seguire le gesta di questo personaggio attraverso una sorta di biografia scritta da un anonimo contemporaneo nel personaggio in questione giovanni io ti ringrazio davvero tanto potremmo stare qui ora a parlare poi soprattutto con un esperto come te di di cavalleria ma di armamenti e della guerra nel medioevo tu sei uno dei più ferrati e interessanti autori di questo tipo di argomento quindi però a questo punto non non ci resta che rimandare i nostri ascoltatori ai tuoi libri io ti ringrazio per avermi dato questa possibilità questa questa finestra ci lasciamo con un saluto a te a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno grazie 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 giovanne ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti